Quando la pasta non è al dende, il cuoco è un deficiente. Il giro d'Italia con Saporitali. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Saporitali per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Poche confuse notizie per gli addetti ai lavori. Dopo le critiche e le mediazioni è arrivato il tempo delle decisioni sul congresso provinciale del PD. Ci sono due ricorsi pendenti. Il primo è stato presentato dal segretario del circolo di Ariano Erpino, Raffaele Grasso. Il secondo è stato firmato dai delegati delle aree che sostengono la corsa di ciarcia alla segreteria in contrapposizione alla candidatura di Guglielmo. Sino a questo momento, né la commissione regionale di garanzia, né tantomeno il reggente nazionale Martina, destinatari tra gli altri delle missive, si sono espressi. Voci non confermate rispetto alle segnalazioni delle anomalie non attribuiscono la valenza di ricorsi veri e propri. E comunque, se neppure in queste ore dovessero arrivare comunicazioni da Napoli o da Roma, l'interpretazione verosimile è che sia il commissario Ermini, in quanto tale, l'unico da statuto a poter dettare la linea. Su queste basi, l'organizzazione per la celebrazione del congresso procede. I circoli vengono invitati a comunicare gli orari d'apertura per sabato e domenica. Certo, il clima non è dei migliori. Oltre le contestazioni interne, bisognerà aprire all'esterno e fare in modo che i tesserati si rechino effettivamente a votare. I tesserati, appunto, risultano circa 7.700 dalla platea degli iscritti 2017. Ermini, infatti, ha tagliato oltre 6.000 tessere rispetto alla platea 2016. Ma quanti di questi effettivamente andranno a votare per eleggere la nuova assemblea e il nuovo segretario? E cosa accadrà nel partito se i nuovi organismi legittimamente eletti non saranno politicamente riconosciuti? Chi deciderà cosa in vista delle comunali, quali alleanze, come si sceglieranno i candidati a sindaco? Tutti i dubbi che nel PD sono destinati ad emergere nelle prossime ore. Intanto il congresso provinciale, con la sfida Ciarcia di Guielmo, riprende quota.